più imputato che imputi che significa non me l'ha più imputato è comunque una mancata consegna quindi va ad incidere sulle non consegnate mo che sia ing o che sia ung o che sia un cong ma per incidere per questo penso tu più mi mangio io mi posso dire per cui viene stampata l'etichetta di giacenza il discorso cambia per la SDA per cui viene stampata l'etichetta di giacenza hai capito? per il GF3 viene stampata l'etichetta di giacenza da domani quindi tale status apparirà solo per l'espezione di SDA però per l'espezione di SDA viene anche stampata sotto il riso che me ne fanno non mi prega a me se ci sta inizio di giacenza se io faccio il trading se io faccio il trading e vedo che si andrà a fare assente e si andrà a fare assente è Buggioni che fa questo senza porco Dio e si andrà a fare un po' di testo sono un po' di testo oh fai un po' di testo cioè queste sono quelle persone che fanno le procedure ma chi è questo? fai un po' di testo fai un po' di testo e si andrà a capire che vari